Il titolo dell'opera è Piccola Fonderia della Carne. Il rapporto delle figure che rappresento con la natura spesso è un rapporto fisico o dovuto anche a una fusione dei colori. In questo caso invece la natura agisce in un altro modo, attraverso le ombre battendo sui loro corpi. Credo che riesca comunque a rafforzare anche l'idea del desiderio e dell'intreccio che già avviene nell'erotismo dei loro gesti.